Al primo tempo sì, è bello, non ci sono state grandi occasioni da parte nostra e da parte nostra, siamo stati più attenti in fase difensiva, però comunque noi abbiamo cercato di attaccare con pazienza e cercare di trovare il bacco giusto, perché loro erano tutti chiusi, erano dieci giocatori dietro la linea della palla nostra e quindi gli spazi non si trovavano, erano tutti rinchiusi là e quindi cercavamo magari a secondo punto, a prima punto, loro stavano sempre chiusi. Poi al secondo tempo abbiamo alzato un po' il baricentro, abbiamo cercato di attaccare un po' di più, infatti sono arrivate alcune occasioni comunque per portare in vantaggio la squadra, cioè non ti so dire in questo momento, già questa partita che stiamo a commentare adesso per errori comunque non dico individuali oppure cose comunque sempre collettive, perché quando sbaglia uno sbagliano tutti, quando si perde si vince tutti e quando si vince si vince in tutti, però stiamo di nuovo a commentare qua, è un'altra sconfitta dove comunque loro con un mezzo di rimporta ci hanno fatto golla, a Parese è stata sì una brutta partita, però c'è più questo del nostro, io come ho detto prima, anche agli altri secondo me bisogna non parlare più e bisogna pedalare di più di quello che si è fatto.